pop 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 maronna poi adesso vado sul mio canale toglo live di prima ora faccio la versione e c'è questo qua perfetto tu 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 uu 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 per me non pop 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 no guarda non mi ha invitato la bella fra fra un po di settimana in scena una season tipo 2 anzio di giugno no a inizio la bella 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 perché se non c'è voglio un rimbo un gioco fallito adesso dici solo il mondo gioco fallito la bella 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 e bella 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 forse era libera minchione vanno alla recluta giordano e no guarda non ho capito io con questa sera mi sono minato la pizza con questa sera mi sono minato la pizza con questa sera mi sono minato la pizza drone pulizia ma che cazzo no ah ma 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 cordone pulizia non è pulizia quindi cio che cazzo sto dicendo infatti cio che cazzo sto dicendo è un po' miglior da tu Ia paia paia Allora impostazioni divisione audio Includi outdoor party Oddio cane Sono un altro team Adesso tu metti la manzone sottofondo Ancora sto caldo Eppa stai rotto Ancora sto caldo Ancora sto caldo Grazie a tutti. 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 fra come non conviene con un euro in euro mi dà 100 armi conviene uno conviene fra con le se dupliche 3 prendi 100 al minuto e poi non sono duplicare quindi devi essere pro ecco io ma vedo alcune tattiche ma c'è mi sembra un po come dire allora è un po tutti quelli che fanno contest duplicano salvo e core c'è che materiali servono e allora non lo so dimmi tu quali mi potresti dare magari il veraggio solare corrucente aspetta 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 in quale l'inventario bro è un po di ok vuoi vedere che quando è trappola trappola queste qua che se luca di vado aspetta ancora non è non si è arrivato nella linea trappola e come come si chiamano spade armi armi e spade si no l'armi fra decido io dico se vuoi materiali che servono e secondo c'è che un tipo a me come materiali interessa il raggio super giù quando vorrei poter stare così stelgo il raggio una trentina una trentina ok preferisco armi preferisco più ormine o ormine trappola più un'arma lega si va bene con la maglia ma garmi 34 per che sono le case ammondate si prendere poti prenderà sono mia non mangiare la scia prendo aspetta però voglio vedere quest'arma lega si vede non mi piace della non aperto poi c'è oppure al costo di questa cosa non potresti dare ai questa un'occasione ma spettatemi è lontano è leggendaria no sono tutte epiche c'è un'arma leggendaria di ball e vai un nocturno ma direi da questo che vuoi nocturno non ce l'ho il milano rega si ti dà c'è ne sono preferibilmente elemento buono grazie che bene che al mie regali aspetta salvò la volontà e viaggio aiuto alberti tanti della pole armi ed alberti se non la trappolo materiali a me ma la malattita aspetta un bel po tanto non mi serve se prenderla ragazzi come se volete donare qualcosa per il canale in fondo c'è un buco dove del parare armi sulle è un attimo cosa mi apre un attimo dentro un attimo perché allora tu le armi le dai al 130 106 a che livello le dai? 130 106 aspetta aspetta un attimo allora posso dare un'arma che sono quasi piena? tieni oh grazie ecco qua è perché me ne hanno dati un botto grazie prego grazie a te per questo bella albighini mi aspetta chi è? sono io sono i talbert ma tu hai detto che non parlavamo eh no prima un mio amico non lo sentivo sarà perché stava dai ah dongino dongino eh idolo puoi uscire? si si cioè è uscita qua non senti allora dongino prego le do un'arma perché lei comunque sono già arrivato una domanda una domanda si si prego venga ma se un'arma leggendaria è anche a livello 20 tipo però non ha perk che c'è no si 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 se a livello 21 allora niente niente ma hai cioè è un elemento? no non ha il perk niente? gioca no 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 ma 3 4 perk sono sono mondati non mi sono senza perk ma è a livello basso senza perk non so cioè sono solo poco rare prima erano rare molto rare ora non più ma in conti ma perché c'è un progetto di un'arma verde che ma scusate è normale che c'è un progetto dell'arma verde con due perk è normale? allora c'è un'arma che devo andare al notturno al 130 vabbè intendo le armi al 130 con 0 perk cosa dongino? ah no tu sei chi che ha parlato? sono i talberto io non capisco bene le voci cosa stai dicendo? oh non è che mi daresti una macchina da scrivere cioè tipo se vuoi tirare il titolo tipo indietro questa vabbè fai mettermi a me indietro ti do la macchina a scrivere come si lascia aspetta con cosmi con R3 no da pc non so ho sia da play che da grazie perché io in questo momento sto giocando da pc che l'ho appena comprato da play so fare tu cioè so giocare ragazzi si è scritto al canale? bro ok cosa? bulldozer al 130 con 3 perk e yes yes lega si è mandato non so cioè cioè non sono esperto di cose lega si mandate eh però è questo bulldozer con 3 perk cosa vorrei in cambio chi è che è il bulldozer? c'è con il guido no 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 lo vorrei ma no dacino io più un gino dove ah non ci cosa vuoi in cambio c'è andato da casa nella live cosa vuole cosa perché è vero cosa cosa vorrei cosa vorresti in cambio per quel bulldozer con 3 per don gino è cosa vorresti per quel bulldozer e lui a caldo e lui a parlare alla tipo tre l'are un gioco e ancora lo devo duplicare perché non ma potresti dare ti do perché poi non posso duplicare ti da questa al 100 tenda ti posso dare stava fosse tendo grande elemento acqua e no bro prima lo duplica poi ma quanti perché è che per tutti i verdi a più 15 danni più 25 dimensioni caricatore più 15 di livello che di comunque un'arma lega se vuoi te lo scambio io anche grazia tipo armi doppio l'avendo io doppio l'emero bollino che senso un ampio tiene bollino a scambio manco io sono che c'è una video qualcos'altro tipo una squadra ma va a un intero con la balle la stessa anche con una tipo spada guarda io ho quest'arma che rarissima ti interessa per uno scala fossile più elemento cosa questo sta doppio chiesa gioca parle team bomber quello che stagione ragazzi il bobbè potrei vedere è che la mando allo scala rossa cosa cosa vedo le persone dovete vedere che la mente che la mando allo scuola per è rarissimo bravo l'apparizione doppio l'evento elemento natura elemento e acqua allora poi c'è il luca bett luca petrotto il di midi in descrizione poi un artiglia il drago mondato poi ho aspetto cos'altro bomber tieni penso le valutazioni a benvi quando un gemini comico ha pensato se vuoi tanto invece non venguto 0 100 miliardi che guarda ragazzi si è il blu ma donna mai avuto un pesta ho mai sentito così via che lo vuole questo ossa io tiene bombe volerei tm bomba mi dai in cambio sia fosse doppio elementi ma facciamo faccia 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 per vedere come ti muovevi da vedere se trova via no preoccupa fra no preoccupa è stato mio tascava posto più elementi allora mi chiedi bro i miei di ragazzi milioni di indiscrezione ma bromi di materiali tipo raggio certo luca ma se ti scrive canale lasciate che non dire richiesto attimo bomber 20 quindi c'è l'accusa rossa dopo si è stesso tempo ma non trovo aspetta di armi aspetta finuto allora doppio elemento fuoco e natura oppure sull'apparizione e natura e acqua una cosa il lan giallo in elemento natura o energia o solamente fuoco non c'è l'evento natura energia e se lo fuoco per elemento poco pure nemmeno di vado ok grazie e guardate come metterà rinomi come l'anno allora brutta che fa che un bello salvo lo scambio no vabbè non ti però che vuole fare la corruzione non ti preoccupare non c'è che ho capito pro ho fatto casco jeans allora io sto qua non ho né scatto quindi il tempo che mi avvicino a due centri aspetta che cazzo e c'è terreno esco valli faccio ancora meno mi hanno richiesto in rispetto no c'è madonna che imbrano che sono in più coli e bomber guarda mi sono giocoliere se persone l'hai venuta sei persone sempre due tre massimo cosi tra ora ma non è mandato ma non giocoli allora bruimi di ragazzi non dovevo richiesto ai metti selezione guardati alla bomba guarda quali si io mi gusta ora a che non è salvo che deve ma come la giunta via che è modata io un liceo affermatrice vinder tech modata elementi natura questa venta resta broda broda no perché va a sfruttare cioè io tengo una fatta dice vinder tech 130 alimenti natura è una ma allora c'è la è che ho lasciato un'altra che mi sono scritto e attività cammina a like bro cosanto temi cosa buono fuori e giocoli e vabbè mando la proposta a che a che livello è quale quale quella mia da giro la mia non mi crederai ma non mi crederai ma non mi crederai ma non mi crederai ma questa trasferisci ok non so giocare la nostra costruzione che su ai venti quando era credito arrivata troppo un dio è troppo un buono allora se c'è questo 130 32 guarda troppo indiore a vedere con l'inventare con l'amato o l'inventare via ai londano ai londano però che vuole fare il mio apposito di armi chi vuole ok l'uomo non preoccupare se una massa pure a 100 3 ore per me lo so bello ma sei tu succede scama scambiata ad un lango 5 provano ormai ragazzi qualcuno può chitare e raga ma non mi vengono dare ma ragazzi buono di guittare che guitta ma io non ho scambiato ragazzi ragionamento un'equità ragazzi però devo italia forza no no ragazzi allora mi chiamo a congina le può restare non ti preoccupi allora i miei di gesù ragazzi non avevano richiesti video in descrizione di m bomber venti allora che trova o caso sito che aveva entrato quando non c'è i noti ci sono quando non si non servono grazie un grazie di riscrizione tutti quanti allora la bocca scusa sbagliato a scrivere ad un tipo bella succede ragazzi temi la bella venghi venghi facciamo subito antox gamer è un mio amico mi ha chiesto se ti posso dire non mi ha chiesto se ti posso dire che non mi ha chiesto se non mi ha chiesto se non mi ha chiesto ma che fianto sono di fare una merata salvo 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 può quittare salvo non mi ha chiesto se 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 non mi ha chiesto materiali tipo magari o arcobaleno non mi ha chiesto se non mi ha chiesto se non mi ha chiesto se non vi non mi ha chiesto giusto aindre no 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 ok thanks bro madonna mia allora io ho capito come funziona ma regali scambi tutte e due fai in che senso e mi regali scambi tutte e due fai in che senso regali scambio vuol dire che cosa vuol dire che lo scambio ok ragazzi e aspetta vedendo spero salvo ma domandò vittare il sole abbiamo casi si sta acquittando proprio scambiamo veloce e margales che il regalo le caratteristiche ragazzi allora don gino può quittare due allora se sono un twitter tranquillo sto cliccando io però dico scambiamo no è un momento tragico adesso sono molti di genere deve entrare appena posto di rinvito video molto una sola c'è nel live che c'è allora hanno richiesto mi richiesto mi chiamo salvare per quittare don gino può quittare anche lei forse ma per cambiare ma non voglio scambiare niente niente è la cosa modata gg ciao abbandonati ora io ti invito a black and ox ok vedo tu aspetta c'è un momento tragico ok cosa consiste questa live scambi oppure non so cosa dimmi tu cosa fai grazie ricaro al minimo 130 ok black e lento bravo di fare sarà come un basso non ho tanti anni fratelli e suscite che la voce bocina qua si si esco anch'io ti chiedo sono mi guarda le 10 di avranno male poi basso ma qui tolto su questo subito mi sentito 10 10 disirio anche di racconto vuoto 10 tv un pochettino grazie bro per favore mi puoi dare qualche retratino qualche anni e 130 che non ne avrà cugino mi sentite mi sentite un mutterinaggio sale di do una sola rametti fa più coraggio che conto fratelli va bene domanda c'è facciamo 100 questo punto dove i miei libri dove i miei libri mi puoi dare tre armi e 130 visto che non ne ho mancano e una e fra allora o più armi meno raggio più raggio e meno armi mi puoi dare 2130 al centro di raggio basta me ne vado aspetta 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 bene ma non c'è l'indica lancia l'unico ma non c'è l'unico ma non c'è l'unico mi sentite si armi le armi madonna ragazzi sono la grande ragazzo in andino un attimo ragazzo raggando ok però mi sicuro sì mi senti sì sì attenzia quando fra prima dobbiamo prendere un'altraia di capo non sono io con luca capito ma apri ma più fai solo solo con le armi che mi sono dove riprendere che stava laggando mia quattro metà di raggio 80 22 anni e che anni sono a scala fosse cosa non riesco a parlare ma io non riesco a parlare ora riesco a parlare mi senti ok a me cosa riserva te e armi mariani ok c'è armi trapple questo va bene adesso due e trapple accanto se ne può allontanare sul foro beh tanto si può allontanare ma non troppo le bro mi interessano materiali non troppo che cosa vuoi bel canto e accanto cosa potresti allontanarti cosa fessi non so ed ritmo 2 ho fottuto tramite foste le vedi ok tenghi tu e ti materiali di sovraggio si raggiunga cosa e black cosa 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 che scrivono in chat c'è black 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 scrive in chat così ti possiamo capire c'è un po di euro lunare e non ce l'ho franzo c'è nessuno che c'è la solita un pochino spettrolita dai grazie ciao ciao alla prossima persona che entra si becca meno armi cioè no a beh facciamo jason c'è diciamo due anni a jason anche lui e poi dal prossimo meno armi perché comunque divento power boy c'è avevo avevo 30 di spettrolita c'è un attimo sono finite mi dice che non accetti le richieste tieni però non ne ho molte riscontri per la sicuramente occupare a non dice che non non accetti e accetti le richieste sono accetti le richieste uno di sparo poi adesso è già scritto e dico sì domanda io ma di c'era il mio libro ne ho 108 bene no 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 io ne ho 176 tranquilli ok cos'è no magari togli di palco capito allora scorpion questo ascolto ti dico ma io sono un cane ma sei tu no io non sono ah i cani ma che sono i cani scopri non l'ho inviata si arriva come bagnati tipo che cosa che ne so che devi buttare se vuoi c'è tra qui dentro per esempio il getto solo con queste cose se vuoi venire lo senti servono vabbè ho fatto proprio solo io ci tapo che mi sta cazzata non mi è arrivata prova con scorpion tu ce li hai gli efficienti però si aspettate te le do ma quanti ce li hai? eh? quanti ce li hai? tutti per il sacco no come le sacche di più sono 1,2,3,6,7 stack te le robo dai grazie stai diventando proprio fai derivato così tu 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 ti devi prendi questo? cosa hai? oh grazie ecco la facciamo 3, 2, 1, go Fai un balletto C'è un altro C'è? Fai un balletto Ok, ok, ancora tutti i bug Allora, ben grande salvo royale Ciao Fran E chorale E' un tiro chiesa Questo è sentire da ricassa Mi Pulle non mi è arrivato ma sicuro che mi è via non è che siamo già amici non mi è Grazie a tutti 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 Perché lo scatto perché? Oh mi si è tolta l'opera Allora Sempre Sto facendo delle figure di merda Nooo Nooo Vabbè c'è Un'arma Nooo Allora Che c'è Non hai elementi? Non hai elementi? ovvio perché nelle storm c'è se si trovano fosse senza elementi senza perché non è immobbata live mi ha detto farsi quel rischio cazzo non scambiare sono iscritto accetti si dia bla ancora allora signor tenente so perché lei ma già prima l'ho preso il compromisso e non ci scassare che segnose 50 di agonizzato giornata lei chiuso un ottimo solo che arrivo io di abba la 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 signor le giornate a me e brian e fissone oddio e moxa allora riaprito non facevano faccio una porta dietro la mia giornata c'è un arco non c'è chiuso no non ce l'ho aspetta spazio il secondo da l'altà mi perdersi da me quando si trova che avevi chiuso e l'arco mi stava abbiando non so io non l'ho chiuso ero che si è fatto una cosa aperto qua non ho fatto niente ancora aperto allora ti interessa pubblicità su insta a son di gol cercaci il problema capito in strada non ho in stage questo problema non vuoi e lei ha trappole materiali trappole cereali congelanti congelanti proprio no mi servendo anche me armi quante armi mi giveresti allora se noi nei materiali trappi a due anni sui o materiali cose o trappole allora due un anno carbone sui carbone se mi becciono solo uno no 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 zero che lo stava comunque per chi è live invito a dare un occhio alla page ora chi voglia un c'è la lista io io chi vabbè è un box vada nel mio mod e quindi giorno quindi con cosa deciso lei armi ok io ho due anni che però io inseriamo solo da allora signore tende a cercare nome a trattino basso son trattino basso di trattino basso e gol si o giornata prego vicino giocan prego prendere mi sono iscritto grazie ma chi è unista di di uno uno stai live che fa pubblicità tipo fa pubblicità cosa del genere quindi andate a vedere ha detto perché non c'è iscritto sono gay non c'è iscritto ragazzi comunque se qualcuno vuole dare indorazioni qualcosa a bregio l'ho detto c'è iscritto facci quando era la storia da e non posso riparticcata la faccia non c'è iscritto facci Minchione che saia ma che sa mi promessi Oh cazzo Mi chiedo ma li avevo smisito Tata 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 Di bala ma sei ancora in live Ti schietto la faccia? Un attimo ragazzi un attimo vengo anch'io Vengo anch'io Forse lo? Si ma Vengo 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 tutto Tutto C'era uno scavaposso Yes Sì Si si versi La mia me indietro Che ci ha dato Tipo siamo scavaposso Su buono un jam Sì A me fai evitare I quali? Perché mi erano lo stati ragione venga sono di una bomba solo perché lei solo perché lei vengi un secondo che dovrebbe essere pericoloso adesso lorenzo lo manda fanculo ragazzi ragazze mille secondo me c'è un botto c'è un amico che ce l'aveva fatti perché la voleva cosa io veniamo forza regalano un'altra arma però è sempre bella che bene non è riuscito in a fare io ce l'ho accendo l'elemento acqua c'è di vedere cosa questa qua ovviamente acqua mondato mondato è modata perché al livello 50 ma sarei vedere cittadino che senso a loro immobbate ma ragazzi allora c'è il bacino galino ma non c'è inutile perché sempre pensavo questa arma fosse modata ma in realtà è un'arma del cazzo quindi vendete l'aprendo e la riciclo è bello che oggi la sto per scambiare a pedro per tipo 3 130 vale qualcosa questo quale donna donna finisce su piedi cosa a quando è 60 di bravo un attimo si è super modato dice la 41 mondata allora posso vedere è quest'altro io ce l'avevo viola ma il twist killer gioco nel piedi babbalucca l'ho trappata è riuscita al tutto da mondo che doveva staccare prendi conto a ti rendi conto ragazzi ragazzi comunque io al taburo battente 100 dicendo no scusate ragazzi io al taburo battente blu io col sarma senza aperto fai 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 e oppi è mandata io ho il nocturno al 103 grazie a questo pacco giocero a una 106 doppio elemento ho scritto che lezioni di e killer mini in descrizione ragazzi allora servono tene iscritti faccio un contest e 30 e mi manda richiesta in descrizione yes e resistenti si con resistenti aspetto così io lo scambiate per un'arma 106 però quando ha fatto così io devo al centro e di me non ne possono andare ragazzi apriamo 3 1 quando la aspettare non adesso ancora apriamo dove entrare si si posso chiedermi una cosa cosa qualcuno di bario scambiare metallo metà l'aspetta se posso da questo grazie per esempio le vogliono di coppia ma c'è l'isiliano che mi serva come capo mi serve tantissimi e mi metano avere 2.700 scambio un romano ma dato tra l'altro non ho dato ragazzi un po bambinare a bagnano bandone di un sole se l'avete un albero di luce l'avete un albero di luce acqua allora cosa ha detto un albero di luce acqua ce l'avete ma chi che parla sono non c'erano scambio che ho fatto la fantasma al 130 cosa che ho una piccola oppure un alzino 30 e del materiale o delle trappole per esempio quali sono l'intimidatore cina 30 sarebbero spas poi di poter dare un bulldozer o un atomizzatore 9.000 mentre invece materiali materiali raggio corrucente efficienti quanto in che senso quanto raggio quanto corrucente allora corrucendo di poter ventina invece raggiunga quarantina l'intimidatore e il bulldozer ok allora teniamo come sia ma non c'è manco c'è l'intimidatore è questo che venga tom venghi venghi sei scritto che era giusto ma cambi una cosa ma tu sei antonio cosa ok ho il telefono rotto quindi non ha chiusato non ce l'avete un pochino di celle di energia da tipo 8 celle di energia ce l'avete si vengono a chi se avrebbe oppure a delta l'amato a chi serve posso vedere per l'apparco 8 non si potrebbe parlare le mie di che non ci sono troppare no l'attacco c'è la riotto celle di energia ma chi lo chiede pepe o delta noi anche del trini allora 8 grazie per arrivare a 10 allora per pepe e te che si riserva c'è vuoi un'arma ce l'avendo e di materiale ragazzi si vera se ragazzi volevi qualcosa per il canale qui c'è la cosa perché è fatto così materiale a vede allora raggio corrosente efficienti sono qui non posso poi io qua questo ma se non ci sono già mi dava la pia ha trovato un'efficienza vabbè niente porta valla pepe venghi venghi un'arma e di materiale si va cambiare anche va bene così ma scrive piesti schi 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 a donna amm a me allora prenda le 40 di raggio è un'arma c'è due volte calma ma io non lo piano ma poi di scavato sono pieni inizio si può diventare ho avuto questo qua ce l'ho tutte le armi o bro sono uno dei più ricchi oggi orari di anno questo c'è davanti per l'iniziatore come fare il re mitico scostano perché forse scambiato dove possiamo scambiare venghi venghi riusciamo aspetta venghi e dov'è come come si chiama è che ha fatti 7 7 7 aspetta cosa l'interessa cosa mi serve a me si vedebbe dimmi tutto dimmi tutto 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 aspetta c'è una lista la lista della lista un attimo un giorno la dose da chiudere cosa è questo bro cosa mi sa cosa è questo si è un obbligatore e modato a aviviamo vediamo cosa interessa noi poi c'è il lancio alluminio legacy che elemento aspetta elementi fuoco non può non interessa cosa per cosa non mi non ciò che ne so 7 7 7 7 1 non ciò e lo scurso peperoncino 130 non interessa lo sento sei in questo interesse brauncio è la la vendetta di jack 106 c'è in questo interesse brauncio 30 e cosa vuoi uno scala fosse scala fosse interessa nostra c'è c'è uno uno c'è migliori altri e altri che doveva il mio fornitore non sono un risultato ho messo il cavo non è interessa perché altri anni che posso dare vi posso dare aspetta un nuovo cosa c'è una vecchia base a 130 ce l'ho già lancia bowling a 130 mi interessa poi ok 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 intanto lo prendiamo il lancio al mondo scusa per il linguaggio scarico nel senso che scarico di vita pur rispondono di muncione anche lei sono scambi scambi di monzoni si potete dare un altro trago no non mi interessa ce l'ho come si dice il progetto questo è ma poi cos'è ma di vedere questo qui sarebbe la ma spettare 100 30 anche io già ce l'ho però è stata accadente dicendo 30 perché troviamo e non mi interessa lo spado è di più alto questo poi mi interessa però no per cosa la scambi è bene bisogna materiali non so la lancia bulli va bene cosa è il lancio bulli non lo scambio che c'è tanto per quella cosa di verbo sono materiali vivo vivo mi serve tipo arunare no lo so no 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 rispetto che mi serve a ossidiana e poi la sparo e batterie ossidiana vuole la sparo batterie si avrebbe e non c'è niente di qualsiasi 3 le batterie le riguarda tutto il mio amico nemmeno non sento qualcosa che ha tutto ciò mi interessa cosa non lo so se cosa mi sto droppando e che sono pieno c'è rompia non so ma chi ne interessa no c'è non mi sei più ma su di un minuto quanto certo non sta bene fa andiamo andiamo a scambiare dove sono scambiare ma c'è una buona ma se mi faccia faccio domani no 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 ci sono tanti gruppo d'orge youtube non so se sei tu però c'è sono permessi per favore ok permessi 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 ok thank you thank you thank you thank you ma con tutte queste drappole però io mi sento un po' a disagio però è una parte vola no no troppo e ti posso dare interessano queste qua no però non mi interessano ok non ti interessano e gli andiamo avanti allora che la misura questo qua non sculto per bioncino prendetano t'interessa no poi avrei lo schioppe 130 no e poi è una cosa faccio non so non capire il nome questo qua questo qua è quello faccio anche la pistola fantasma 106 non ti interessa lo scala fosse arrivata che noi sono dove andare al produttore in un attimo armi 1 2 3 4 5 6 soltanto nell'inventario io ne avevo dimostraventi erano tutti gli vati provando a fermare l'altro ormai si trova un troppo facilmente che non lo sa mai nessuno ma chiara scrivere con tutti i perchi leggendari sono altri trascimento 5 del deposito 106 e ne ho un altro la 130 130 e poi io qui ma non si per divare non può essere per divaro c'è c'è la parte dell'arma vido rara per andare in varietà faccio l'ogito del drago 130 dobbiamo cercare ne avevo la mentina tutti chi vada in quelle che freddo non c'è un accento a questo secondo ma non ce l'ho non c'era il 130 1 ho dato e uno con l'elemento e un dura cosa vuole con l'uomo babbo non dovevano lo scambio non dare uno scambio per quello natura lo scambio non c'è ne sono le due no fa io sono a studiarmi ripetuto per il mentale ma anch'io ce l'avevano tutti chi vado materiali cosa vi servo io ho un arcobaleno io ho un arcobaleno però non lo so non lo vantuno in questa cosa mi servebbe che ne so batterie ho detto tu non ce l'hai eh però chi vado tu hai polvere nero carbone cosa? polvere nero carbone aspetta rivedi più piano polvere nero carbone aspetta guarda glielo faccio vedere io è questa guarda fa una finestrina fa una finestrina guarda questo è questo aspetta aspetta non è che ci piace non è che ci piace eh bro te non ti serve niente cosa ti interessa? l'argento cosa? l'argento fame c'è anche leggendo come rame? no tu non ti interessa niente quello che vuoi di me e frodo è tutto tutto quello mi serve se tu non ci l'hai una casa mia? questo qua che interessa? quello che mi interessa? che cosa? adesso tutto questo qua ma che mi interessa mai questa cosa? ah poi c'è un minuto fa che era? ti ci vuole fatto metto che ti piaceva la volevo? eh ma ho già detto se volevi materiali tu non è più no e frodo mi interessa materiali però non ce l'hai ma la mia faccio non scambiamo cosa? lasciamo stanno scambiamo non ho capito non scambiamo non scambiamo non scambiamo non scambiamo nel secondo allora killer simon che vi gioco che vivo voi siete iscritti al canale e lasci like e mi mandi la richiesta non be per fare un gioco che gioco allora se esce meno di 6 tu mi devi dare un'arma 130 se esce più di 6 io te lo devo dare a te non saranno la riunione un accetto e noi accettiamo 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 vediamo il mio non abbiamo riferita veramente perché ce l'ho scusa perché c'è una buttata perché il nonno ma no e dal numero ma non c'è più armi le due lui questo bombe le sto finendo dobbiamo dare dal mio corridore da 100 mi dovete vedere altri due anni e io mi fa fare scelta le prese sono 50 poi cinque anni di raggio efficienti sul canto e quindi perché vivi 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 e agli un popolo nidor cioè allora voi rimaneci e guarda c'è ragazzi voglio dire che sono iscritti così anche venito non tornano però ai guai yes cosa deve cambiare va bene cosa ti interessa non è c'è l'energia cosa vuoi vuoi per averlo che so interessano video e bolloni è stato l'ho detto così se le batterie mi serve aspetta ossidiana mi serve scaglia buia oscar voglio del grande oh cazzo forse per la malachida vuoi cambiarla vuoi cosa per la malachida ah devo cambiare per la malachida ma cosa cosa per la malachida a me non mi serve nell'alto eh va bene ciò si fa non ti serve niente e frasi ma io li ho sempre tutto più e frasi fa perciò tutto lo stiamo più non mi serve niente adesso con cui non mi serve che lo hai detto che lo sono cosa non è c'è tutto ah è stata pizza vero pizza 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 un pezzo di pizza allora la diavola ecco la sedia visto come cosa vuoi facciamo un gioco ancora se esce più di 6 da un'arma 106 fra me stasce necazzare un attimo mi sto risultando la pizza non rompere il cazzo guarda la tua chat se scrivono qualcosa ma perché non ce la faccio non c'è un cazzo di casa dio avrò e danni è che forno capi armi tutto sono le mani fatte di pomo non ho capito ti posso scambiare l'apparizione sono un attimo sono in cucina un attimo dio cazzo la pizza ma chi è leader fai 2 ecco mi sarà una postazione un attimo scorro allora di prima ciao come ti chiamo qualcuno guarda la chat please hanno scritto a questo scusa per la stava scusa per altri solo stavo tenga i permessi tutti i due e che ci avevo allora di tutti i due e insomma il mio indiscrezione ti riscrivi al canale per essere diviato o mai abbiamo detto che io gli scambiamo questo quant'è? ma ti interessa un scavafose 130 scavafose? eh sì l'interessa però ho paura che mi bruci attenta però troppo l'arma vicino al muro a me non la posso vedere se 130 no poi mi bruci non la posso prendere perché c'è il muro Fra, 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 io ho un po' più quello di te, perciò Peppe, io ho un po' più quello di te, perciò non si può scambiare ma che hai detto? se mi spredi che c'è il 130, se no non lo scambio penso se non lo scambio non so sì ma io non so il sicuro che è 130 va beh allora non scambio allora scusa, pensavo che non avrei per me quindi ragazzi minera io non ho più voluto scambiare perché avevo paura ma chi di me sì io sono io sono venuto qua perché vuole scambiare le scapposte che non troppi io non potessi mai sicuro che la tua 130 ma neanche noi io te lo sto girando hai paura di scambiare davanti avanti arrivati si è così mi hai paura o no che fai tu sei paura poi mia paura quindi è paura bro sì ah non avrò che spara sì ah 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 Grazie a tutti. 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 un altro. a tutti. 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 tutti. a 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 tutti.